Gli applausi del pubblico di Firenze, le squadre che stanno entrando sul terreno di gioco, anche l'applauso per Cesare Frandelli che ci tiene a ricambiare ovviamente l'applauso di tutto lo stadio viola. Eccoli qui i protagonisti, tra poco verrà osservato un minuto di silenzio per ricordare Manuela Caffi, 45 anni, morta lunedì, moglie di Cesare Frandelli, da quando aveva 19 anni. Alla bene la quarantina che ha toccato con il ragione, ma anche lo farà anche oggi. E' un male che aveva tolto la signora Frandelli ai tempi della Venezia, quando Frandelli allenava in Laguna, un male che purtroppo c'era riprodotto. Nella 24 all'inizio della sua avventura con la Roma, l'edizione e la rinuncia all'allenare per un'altra, per la ritorno e la pagina. C'è la pastina della sua regina, che ha fatto fino adesso grandissime cose. C'è la Frandelli, mercoledì si sono celebrate e verzi uomini, la pagina Natale, i Frandelli, il Bresciano, i funerali della moglie Emanuela. E' una giornata particolare, arriva anche dal saluto. E' una giornata particolare, arriva anche dal saluto.